Ciao Alien! Dov'armi? OV'armi? L'amico è successivo e la base è comodissi Sì, ma compagno con le palle Sono sempre il numero uno Che stai facendo per ti ponteggi qua? Ho spagato tutti in bianco Quelli non mi fanno scassare Sono spagato Me! 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 E' matela Eh ma... Leva a Fire, leva a Fire Sì, va a Fire Sì, va a Fire Sì, va a Fire Non l'ho visto Eh, vai! Non l'ho visto Congelatore Vai, Ari Sì, sono i pazienti